bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Juzzi e oggi siamo diretti in un bando sembrerebbe figo, molto figo, sono alla guida quindi scusate se non vi guardo direttamente stiamo belli attrezzati oggi, ci abbiamo un cinewhoop, un 5 pollici freestyle poi ci abbiamo il quad di myframe col sistema dji, saremo veramente veramente tanti forse arriviamo a 10 persone, non lo so, se volerà poco si irriterà tanto, ci vediamo tra poco direttamente sul posto ragazzuoli siamo arrivati, c'è il buon torrem e eccolo qua quello è il bando, cinewhoop dello stesso colore e si va a fare danni poi siamo dentro, stiamo seguendo Davide che ci fa strada, che lui è esperto, è venuto già altre volte guardate che posticino, oggi ci lasciamo un quad, non il mio però spot super figo ragazzi, vediamo un attimo dove è meglio metterci perché oggi faremo due video un po' particolari il primo video, quello di Davide, sarà della Menas, l'antena della Menas con il kit dji mentre io farò un po' di video con il cinewhoop probabilmente ciao 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 ecco ragazzi i tre quadini sono veramente una figata questo qui è quello di Davide con la cam solo delle cammela dietro ragazzi poi abbiamo quello di torrem che c'è la gopro i rosette davanti e il mio pure con la i rosette davanti è una figata perché con questi duck in tpu e guarda minchia rimbalzavano no ragazzi sono divertentissimo io non l'avrei mai creduto veramente e tu eri il primo se stai dietro ti metto in poi e più io stavo lì concentrato a fare le linee di smoot e mi seguite ragazzi di palma fanno un altro giro dai tu li metti al giri dietro e tu dirigili e io dà l'orchestra dai eh No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.